Sono stato recentemente ad Ancona e a mezzanotte non si può più bere alcolici. Anche lì, discutibile, perché secondo me è hai un problema con lo sporco, il disordine, eccetera, ma punisci la cosa sbagliata. Cioè, non ha senso. Multa la gente che tira la roba per terra, quello è multa, perché ha un senso logico e intensifica il servizio di polizia. Se davvero il decoro urbano è così importante per te. Sorry guys, I have to be the cat. No, no problem, Andrew, I was talking about local politics, so... I thought politics was banned when I raised it. Yeah, but if you don't report me, I'm fine. No, it's just that the new municipality just had a very smart idea and decided to forbid any kind of eating outside. And you cannot... Or in Italy. In my city. Yeah, but in Italy. Yeah. Outside in Italy. Yeah. Yeah. You cannot sit on the steps of churches to eat your sandwich. They will find... Not even eat fried pizzas. Not even eat fried pizzas. Exactly. No, no, absolutely not. But they're amazing. How can you not eat them? Per carità, madonna Annalisa, sono perfettamente d'accordo che ci sia del sudicio. Però tra l'altro possono fumare, perché fumare non è un bivacco. I'm range more than this, by the way, Keaton. Oh, yeah, 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 yeah. I'm going to be the corner, stanno trasformando... The gun's are a bit more. Dovranno essere... No, anche perché è un'altra cosa che... Abbiamo la porta... La spazzatura porta a porta, ok? In alcune zone. Nel centro no. Nel centro ci sono dei bitoncini, colonnine, in cui ti attiri la roba differenziata. E quindi uno dice, wow, peccato che per usarli deve essere un residente nel comune. Un turista arriva, non può tirare la carta del panino che non può mangiare. Nel cestino, perché non ha la tesserina per aprire il cestino. Ok, va bene. E' coming straight, eh? Ok. Ok, va bene. thirsty,اي, ce l'ho visto? E' come un turista di tesserina per dirvi il cestino e esplora. Esatto. È un turista! No, non è giusto? È un turista di tesserina per noi? perché in realtà la legge nazionale c'è sì ma anche questa sarà imprecissima perché cioè oh boi ok qualcosa ha fatto a questo Adriatico? sì sì ha fatto un dumpster sì, ho visto che era quindi ho parlato e ho avuto e ho avuto a flutte in campo Montana shooting HE dalla distanza máxima ok 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 In realtà montana HE is generally better than conquerors I don't shoot HE on conquerors as well Shell for shell the conqueror is better but on a salvo then generally the montana is a lot better What the fuck Just because you'll hit more shells the accuracy is better Oh yeah no wait you have the same number of shells on montana and conqueror Yeah but you'll hit more at range with montana than you will with a conqueror Ah okay yeah 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 and also conqueror doesn't have the spotter or I'm wrong I'm don't remember but in theory the spotter should increase the vertical dispersions in theory I need some I think it's a bit of an offset Okay So where your shells will generally wind higher than where you aim Yeah 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 There's not even half a bitoncino to the circular stops Exactly yes exactly Right on me now Yeah I thought it might be Oh Oh ho Two me now Oh ho 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 Are they both Are they both? That was smug There's one in front There's a radar I need an head Okay My shells just decided to go somewhere else It's alright I'm out of radar range Yep Can I? Are you all fuck off shooting? It's alright I'm out of radar range Yep Can I? Are you all fuck off shooting? I thought were they even got, it's real I mean it's just I had to go in there I'm not and the στην and then some tops at the meadows nobody's trying to talk to them at night so i i i 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 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 18 18 19 20 20 20 and then i can drop it as smoke or something since i smoke was useless i need to get to you for some of it behind you i need things in range nothing seems to want to get in range what's been it to a radar range? dead let's go stealth star go 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 and just drag it across to the east if you can on right drag it in a little closer to them maybe what's the range on your guns? 16-8 alright that is with range wide right enough there's a group right there hmm yeah oh 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 mino hmm oh no no i i oh well no i Sì. 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 Dammage. Sì. 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 Sì, sì, sì. I'm just going open water Maybe as well Wait was something I don't wanna know about damage farm I'm gonna go Sì, 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 sì. My secondaries are extremely disappointed Okay I got finally fire Yeah I got one as well Just as about to eat all the bloody tops Oh bye bye 999-1 credo che vi siete oh Mr. Quest buonasera buonasera Mr. Quest buonasera yeah finally a decent game with a decent number of secondary hits 212 without luteans so I'm happy I'm happy